Oggi, venerdì 10 giugno di 2022, ci troviamo sul punto più alto della città di Malaga, da cui si può vedere un'ottima vista sul porto, il porto dove attraccano la città, la spiaggia. A questo punto si può venire su, tranquillamente, a piedi, per ammirare ogni giorno il tramonto. Questo è Domingo Mare, a piedi al porto, poi, a sinistra del porto. Questa direzione qua, ci sono una vera spiaggia, fintola che fu un po' di una città di Malaga. Grazie.